Improvvisamente un furgoncino con un tatto di marchio di mozzarella di bufala guidato da un ragazzo lancia dal finestrino tutti i residui di carta con i residui di un panino. Io e il mio collega che vede la contemporanea mi diceva guarda questo, porto in giro il marchio della mozzarella e poi combina la nostra terra perché anche gettare una scicca di una gomma o di una sigaretta o una carta di una caramella significa individuare. Non possiamo prendercela soltanto con i rifiuti intervatti se noi stessi non rispettiamo le regole in piccolo.